Fere, conto fino a tre? Uno, due, tre! Steph, dove sono? Steph, aiuto! Dentro una fantastica casa! Come dentro una casa, Steph? Oh mio Dio! Ma come hai fatto a farla in zero secondi, Steph? Quest'oggi, Fere, ci divertiremo molto! Ti piace questa casetta? Sì, piccola ma funzionale! Abbiamo la cesta, ci sono anche tutti gli item dentro di legno! Cosa ne vorresti una di un altro materiale? Ma certo, Fere, eccola qua! Abbiamo quella di stone! Pronta per l'uso, Fere, sei contenta? È uguale all'altro, ma va bene, con i materiali di stonno, ovviamente! È ovvio! E ragazzi, come va? Io sono Fere, Niki! E sono Steph, che se ci chiamiamo Minecraft! È il preferito in un nuovissimo episodio di Minecraft oggi, Steph! Fammi vedere, perché mi hai intrigato con questa cosa, con queste case che si costruiscono subito! Lo so, Fere, lo so che ti hai intrigato! Beh, allora, praticamente quest'oggi andremo a vedere delle case che si costruiscono in un batter d'occhio! Basterà semplicemente mettere il nostro fantastico blocco dove vogliamo, premere il tasto destro e automaticamente comparirà la costruzione! In questo caso è una piscina! Oh, ma pure! Ti volevo sorprendere con qualcosa di diverso! Ma scherzi, Steph! Qua facciamo anche i ricoli con la piscina! E c'è pure la scaletta per uscire, l'hai vista? Eh, ho visto, sì! È proprio, è tutto ben pensato! È tutto prontissimo! Serape, non è fatto a perderti in una piscina 4x4, Fere! Non lo so, però succede, succede! La cosa che però io trovo più fantastica di tutte è questo blocco qua! Vieni con me, vieni con me, vieni con me! Ci mettiamo qui! È un blocco molto particolare! È un blocco molto particolare! Sembra quasi un lucky block, giusto? Esatto, esatto! Ok, però non è un lucky block! Vado! Allora, aspetta un attimino! Vado! No, non puoi cliccare a destra, Fere! Devi ascoltarmi! Ok! Scegli tre item che vuoi, tre blocchi che vuoi, dal game mode, ok? E mettili uno sopra l'altro! Ok, tre, proprio tre blocchi a caso, i primi che ti vengono in mente! Ok! Ok, va benissimo! Allora, per favore, non tutto rosa! Non è tutto rosa, gli ho scelti! Ok, vai e mettili pure sopra! Tieni premuto CTRL, quindi SHIFT! Esatto! E metti sopra quel blocco! E poi devo andare sopra ancora? Esatto! Aspetta, allora devo volare un attimino, non ci riesco, eccomi qua! Non ce la può fare! Adesso basta che premi destra e basta, Fere! Ah, ok, perché premi... Vabbè, scendevo giù! Ok, l'ultimo! Ok, premi testo destro su quel blocco strano! Penso di aver già capito! Guarda! Io ho fatto, oltretutto, una scelta di blocchi totalmente casuale! Cioè, i primi tre che ho visto, proprio istinto, li ho presi! Ma devo dire che è molto carina! Hai visto? Sì, sembra la casa di SpongeBob, però è molto caro! Quindi, praticamente, non solo possiamo preparare delle case già costruite, già strutturate, eccetera, eccetera! Possiamo fare anche le nostre casette personalizzate con tutto quello che vogliamo! Eh, questo è molto carino! Però poi iniziamo ad avere cose particolari, ad esempio la fontana! Se vuoi una fontana nel giardino di casa... Beh, se magari devi fare un villaggetto e ti serve una fontana per abbellirlo, questa è carina, è carina, ci sta! Perché no? Ma perché mi sono incastrato qua? Perché sei scarso! Aspetta un attimo! Ok, ok! Poi cosa ne so? Magari tu sei in giro, in una pianura, non sei vicino a casa tua, sta facendo notte, proprio come in questo momento! Sei circondato da delle buche che non sai perché sono qui! Le vorresti mangiare, ma non puoi perché sei vicina che poi si lamenta! No, non vorresti perché sei vegetariano, quindi lo puoi! Vedete? Io non sono vegetariano! Quindi cosa fai? Beh, direi che la cosa migliore è mettere una tendina e accamparsi qui dentro! Ma è davvero una tenda? Sì! Oh, carina anche questa! Hai visto? Sì, sì! Bellina che la puoi! Una bellissima cosa, una crafting table, una... Fere, non mi viene... Fornace! Grazie! Fornace, accidenti a te! Ma perché non mi vengono le parole ogni tanto? È colpa delle mucche, mi distraggono! Perché i problemi di memoria! No, no, sono le mucche che mi distraggono, chiaramente! È un po' pazza per quello! Comunque adesso restiamo qui dentro perché dobbiamo aspettare che faccia di nuovo giorno fare! Oppure c'erano dei letti nelle altre casette? Sì, c'erano dei letti! E allora io vado a dormire in un letto! Sfruttiamoli, scusa! Esatto, esatto! Cosa, Fere, cosa hai detto, scusa? Niente, Steph, mi sono appena svegliata e non ho ancora parlato! Vuoi una casa sull'albero? Non l'ho mai detto, comunque! Fere, ma queste richieste sono un po' eccessive! Cioè, ok, ti ho mostrato delle tende, delle fontane, la tua casa perfetta, ti ho mostrato tantissime cose, ma una casa sull'albero è molto più complessa! Nessuno potrebbe creare una casa sull'albero con un click! Forse, Steph, può però! Oh, yes! Come ci saliamo? Aspetta! Ovviamente, qua c'è la porta! Ah, perfetto! Andiamo! Allora, saliamo! Proprio a tutto, non le manca niente! Ah, guarda, 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 è bella, eh, l'hanno fatta anche bene! Ah, guarda! Qua abbiamo una specie di gazebo, mi sembra! Esatto! Oltretutto riparato! Molto riparato! Poi, qui, guarda, guarda che bello qua il passaggio! Vedi che è tutto così super all'aperto, e poi arrivi alla stanza classica, dove appunto hai tutti gli utensili, il letto per dormire, eccetera, eccetera! Eh? Bella, bella, bella! Bella questa, vero? Io non l'avrei saputa fare così bella, quindi... Figurati in un secondo! Direi che va benissimo! Hai fatto un'altra di quelle richieste super mega difficili! Non è vero! Ma non ti accontenti mai? Ma scusami, eh! Ok, uno ti ha mostrato tutte queste cose, come fai a non accontentarti mai? Qualcuno te lo deve dire, se senti le voci, il primo sintomo è di pazza, deve andare a farti curare, capisci? Ma, Fede, cioè, davvero, neanche la casa sull'albero ti basta? Cioè, ne vuoi ancora? Non ti basta ancora? Questa volta, sapete, Consulini, cosa mi hai chiesto? Togli quella spalla, e poi quando hai preso la spalla, scusami! Non lo so, ce l'avevo! Allora, stavo dicendo, Consulini, dopo tutte queste cose fantastiche che ha visto, ha avuto il coraggio di pretendere pure una casa moderna, perché ha detto, ok, Stef, è una casa sull'albero, fontane, ma qui è tutto troppo vecchio, tutto troppo medievale, voglio una casa moderna. E Stef non ce l'ha la casa moderna, Fede, quindi come facciamo? Non lo so, stai facendo tutto da solo! La costruisci tu, ti prendi un po' di quarzo e ti metti a costruirla! Non lo so che stai a disto! Bene, Fede, metti a costruire la casa di... Non ho un quarzo, Stef, non posso! Fede, te lo do? Tieni, 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 aspetta, quarzo... Allora, ti do questo classico... Ma non basta solo quello, ci vuole il legno, ci vuole il vetro... Tranquilla, inizia a costruire! Facci vedere, facci vedere! Vuoi fare qualcosa, quindi mi sto guardando alle spalle, Stef! Non faccio nulla! Faccio una muraglia contro di te, guarda! Ok, questa è una bellissima... Sta iniziando la casa moderna, Consulini, eh! Sì, sicuramente... Fede, ma l'hai già finita? Ma sei fenomenale! Lo so, grazie! Ma come hai fatto a farla così in fretta, scusami? Eh, perché son brava! Eh, ma proprio un talento incredibile! Comunque qua c'è... Piano... Dovremmo smettere di fare queste cose! Piano terra, scaletta, secondo piano, con tanto di balconcino per vedere le mucche e la pianura, davvero bellissima! Io sto salendo dalla cascata! Fede, ma ci metti due ore così? Cosa sarebbe? Non lo so, lo sai? Ah, un altro tipo di casa, molto spaziosa questa! Eh, questa è più bella! Questa è bella! Questa è decisamente più bella! Questa diciamo che è una casa per due, secondo me! Sì, andiamo a metterla un attimo di sotto perché la volevo vedere un pochino meglio, perché non mi aspettavo una roba così diversa! Vediamo un attimo! Ta, ta! Eh sì! No, questa è carina! Questa mi piace molto! È una forma un po' più tonda, un po' più diversa dal solito! Certo, magari col tetto si potrebbe modificare un po', però... Ma ci vedo, a me piace così! Parti da questa! A me piace così! Molto bellina! È come punto di portenza, infatti, è molto carino! Poi, ovviamente, se non ti piace la versione con tutto quello, diciamo, quei blocchi lì, abbiamo la versione pure in cobblestone, che secondo me è un po' più carina! Vero? Sì! È un po' più bellina questa qua! Ma mi piaceva anche l'altra, sapeva molto di un'ina! Poi, se ne vuoi una, cosa ne so, qua nella spiaggia vicino al mare, abbiamo pensato a tutto, Fere, guarda! Ma io sempre dentro, ci finisco, Stef, facci i denti a te! Aspetta, ti libero! Poi mi si blocca tutto! Aspetta, vieni fuori! Dicevo, anche quella per stare davanti al mare! Ma bellina questa, guarda com'è dentro! È molto, molto carina! Che tappetini! Questa è particolarmente carina! Poi non lo so, Fere, se ad esempio tu vorresti dei cavalli e non sai dove tenere i cavalli... Abbiamo anche la stalla! Abbiamo anche la stalla! Ok! Eccola qua! Ok, ah! Carina! Guarda! Eh? Sì, eh sì! Qui ci hai mettito i bei cavalli, poi apri la porta e non puoi più uscire! E abbiamo nella cesta di destra, ovviamente, come si chiama? Il fieno! Ok, Stef, perché oggi non sai parlare? Me ne va! Me ne va! Poi abbiamo una sella e un cartello, ci penso io, Stef, ci penso io! Brava! Affogati, perché è la cosa migliore che puoi fare oggi, Stef, eh! Non riesco a parlare! C'è qualcosa che non funziona nel mio cervello, è chiaro, eh! Secondo me... Io te l'ho detto da inizio video, ma tu continui a non ascoltare! No, no, no! Vai a fare la prossima casa e muovi, vai! Ormai me ne sono accorto anche io! Poi, con il tuo bel cavallo... Ok, cioè, tu sei, appunto, nella tua stalla, ti prendi il tuo cavallo... Ovviamente sta... Però questa volta l'ho nascosto meglio, eh! Questa volta non se ne accorto nessuno! Non è che fosse così tanto velato! Dicevamo... Non puoi ridere! Non puoi ridere dei problemi altrui! Porca miseria! Ok? Cosa hai oggi? Non lo so! Non lo so, mi sono svegliato male, a quanto pare! Dicevo, con il tuo bellissimo cavallo, stalla, fornace... Vedi? Vai! Con il tuo cavallo dalla stalla... Vai, vai, vai! Viaggia un pochettino! E dove vai? Vai, ovviamente, dai commercianti! Quindi qua abbiamo un villager... Ah, con villager compreso! ...pronto a commerciare insieme a te! Salve! Oh! Oh! Mi dai biscotti, però, eh! Aspetta, aspetta, aspetta! Dammi uno smeraldo, Steph, ti prego! Dammi uno smeraldo! Vieni, così ti fai la scorta di biscotti e sei contenta! Vuoi vedere una trappola per mostri gigante? Sì! Questa è bella, eh! Questa è davvero enorme! Vado? Vai! Ok! Vedi? Oh! Allora, da qui si entra... Fere, 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 fere! Ma dove? Ah, ecco! C'è un bottone! Entri dentro! Aspetta! Ok! Come puoi vedere... Sono incassata! Allora, praticamente, abbiamo una sezione che fa sponare i mob! Li fa cadere con l'acqua! Questa acqua li trasporta fino a qua, che li fa salire sulla scala, che li fa bruciare! Ma è bellissima! Guarda, guarda, da questo lato, da questo lato, fere, vieni, 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 vieni! Ok! Guarda come funziona! Guarda lì! Vedi, vengono portati lì e vengono fatti bruciare! Dopodiché il loot cade sotto e ci dovrebbero essere delle ceste da qualche parte... Ah, no! Vieni! Ah, beh, sì, per forza! Qua ti arriva direttamente gli oggetti, senza neanche la ceste! Ah, ma è strano, è strabello! Questo mi piace un botto! Hai visto? Questa è molto, 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 molto bella! Cioè, pensa in una survival che vuoi magari farti il mob spawner, clicchi un tasto e ne hai uno meraviglioso! Cioè, guarda, lo vedi che arrivano le loot? Sì, sì, infatti ve li sto prendendo, è molto bello! Infine, perché questo, sì, fere, mi dispiace dirtelo, ma è l'ultimo! Ma no, ci stavamo divertendo così tanto! Eh, lo so, fere, ma siamo arrivati all'ultimo! A prenderti in giro quando sbagli le parole, dai! Questa è una... Libreria? Libreria! Ma aspetta, i cuori! No, mi sembra di me di cuori! Di quelle davvero enormi e bellissime! Sì, aspetta, sono incastrata sotto il pavimento! Fere, già, fai! Eccomi! No, bella! Eh? Qua, quando vuoi venire a leggerti un bel libro, è il posto perfetto! Ti rilassi un pochettino, certo! Cioè, belle che le vetrate! Davvero carina! Cioè, guardate la forma! È carina questa, eh! C'è una costruzione che in un mondo, secondo me, ci può star bene! Ok, fere! A questo punto, facciamo una sfida, ok? A due round, su delle case personalizzate! Ok! Ok, quindi, allora, ti devo dare questo! Aspetta che me ne prendo 64, così te ne do due a te! Scegli tre blocchi, ok? Ok! E ne devi avere due! La più divertente, ok? E la più bella! Va bene? Ok! Allora, io so già qual è la più divertente, perché fere so che non ci ha pensato, perché ha una mente molto più limitata di quella di Steph, quindi su questo ho già vinto, vediamo se riesco a vincere anche sulla più bella! Vediamo la più bella! Allora, secondo me, possiamo mettere questi, così, poi questi... Ci sta impegnando, Steph! Sì, sì, è una sfida importante questa! E poi vorrei del legno e direi... forse... questo è difficile... pensiamo... abbinamento così... ok, io ce li ho! Fere? Io no! E poi ero io che mi stavo impegnando! Eh, allora, questa è secondo me la più divertente! Ok! Questa devo fare la più bella! Ok, va bene, aspetta! Bella è difficile! Muoviti! Prima sfida, la più divertente! Sei pronta? Sì! Allora, mettiamola abbastanza vicina, quindi metti un blocco lì e io lo metto qua! No, io mi metto qua perché ho paura che vadano in conflitto! Ok! Vado! Vai! Metti i tuoi tre blocchi! Non ci guardiamo? Vai, vai, tranquilla, tranquilla! Ok! Così! E così! Ok, vai! Creala! Ok! Ma tu mi stai spiando! Ma tanto, Fere... cioè, io ce l'ho già scelta! Ok! Dai, è troppo bellina a far ridere! Perché sapevo che avrebbe avuto le pareti con la faccia della zucca e quindi è bellina! Mi dispiace! Ma... Ma... Povero Stef che fa le figuracce! Povero Stef! Non puoi vincere! Povero Stef! Fere! Ah, ma poi la fai esplodere! E quindi la mia è più divertente! E farà esplodere la tua! Ma la mia fa più ridere! Ma... Allora, ho detto divertente! Consento poi di ghiaccio, guarda! Uh! Volevo far schiacciare il ghiaccio così poi usciva l'acqua ed era divertente! Invece tu tenete... Allora... Per rovinare tutto! Sfida numero uno! Vinta da Stef! Non è vero! Non c'è neanche bisogno di un sondaggio! Sfida numero due! Sei venuta qua dove sono io? Fere? Sì! Sono qua! Sono qua! Vai! Allora, ognuno per sé! Ta! Mi sono dimenticata come la dovevo fare! La mia era... Ta! Ta! Ok, penso che ci sia! Non lo so cosa non uscirà fuori! Vado! Vediamo! Ah! Ok! Ho fatto una casa di vetro! Dimmi che è una figata! Dimmi che non è una figata! Carina! Carina! Ovviamente ci sarà il sondaggio per queste case! Vado! Vai! Tocca la mia! Opla! Carina anche la tua! Bella il tetto in diamante comunque! Il tetto in diamante infatti me lo aspettavo bene! Ho filato il pavimento! Eh sì! Nel senso che da fuori è brutto! Dentro non è neanche male l'effetto! Ma da fuori è proprio brutto! Beh ragazzi! Lasciateci un bel like! E se ne è una prima volta che avete detto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdere gli altri episodi! Ciao! Alla prossima! Ciao! 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 Grazie per la visione!